buongiorno e bentornati sul canale oggi secondo video della corea e come potrete vedere dalla mia faccia non mi sento molto bene oggi purtroppo con i jet lag non sono riuscita a dormire stanotte quindi spero di riuscire a farlo oggi perché altrimenti penso che morirò il tempo oggi tra l'altro non è per nulla bello è un po piovoso è molto grigio quindi diciamo che anche questo non è che contribuisce molto a svegliarmi e anche la temperatura sembra un pochino più fredda rispetto a ieri quindi oggi mi vestirò un pochino più pesante perché l'aria è abbastanza fredda il programma di oggi è andare al coex mall e poi penso faremo una capatina anche a gunnam o comunque quartieri limitrofi e vediamo oggi credo che ci sarà un altro po di shopping non che io abbia comprato chissà quanto in questi giorni perché alla fine ho comprato principalmente da olivi young tra cui anche la tinta labbra che indosso oggi però appunto ve lo farò vedere nel video haul così nel frattempo testo anche un po i prodotti che ho comprato ho comprato anche un bronzer ad esempio ma ve ne parlerò successivamente e adesso vi faccio vedere l'outfit of the day come accessori sto indossando la collana di vivian westwood che indossavo anche ieri oggi ho messo questi orecchini di pandora a forma di cuore e adesso vi faccio vedere il resto dell'outfit che nel frattempo ho messo anche il trench ho indossato questa maglietta di ganni che mi piace tantissimo e mi piace proprio la combinazione dei colori in questo outfit che in realtà è una color combo che non avevo mai indossato prima ma mi piace molto il beige con il verde indosso questo trench di mango che ho preso su vintage poi sotto anche un cardigan nero perché oggi fa abbastanza fresco e rindosso gli stessi pantaloni che avevo ieri che sono appunto questi cargo badge di sheen come borsa indosserò questa qui di uniclo che hanno tutti però devo dire che qui in corea non l'ho vista ancora indossata da nessuno che vedete come cambiano le mode da paese a paese ad esempio questa borsa a manchester vi basta uscire di casa e la vedete letteralmente su chiunque penso che anche in italia vada abbastanza di moda mentre qui letteralmente non ce l'ha nessuno e abbinerò le mie new balance queste qui bianche solite per colazione mangerò questa barretta fatta di mandorle e cocco ne avevo portate diverse da manchester ma alla fine durante il viaggio non le ho mangiate quindi questa è l'ultima rimasta prima che le termino dovete sapere che qui i locali aprono molto tardi e chiudono anche tardi quindi in realtà per una persona che deve fare colazione non conviene tantissimo fare colazione fuori perché non troverete il bar aperto alle 8 le 9 anzi solitamente i locali aprono intorno alle 10 11 mezzogiorno ma io non posso aspettare fino a quell'ora per fare colazione altrimenti muoio e quindi vi mangerò questa barrettina la barretta si presenta così e come potete vedere sono tipo tutti i pezzetti di cocco e mandorle probabilmente unite dal miele mi piace molto perché non è di quelle barrette che sono così dure che ti rompono i denti questa è super morbida da mangiare molto molto buona super promossa e non è neanche troppo troppo dolce questo è un po' di più questo è un po' di più Grazie a tutti. 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 un pochino meglio anche se questa giornata sono stata stanchissima tutto il tempo ma spero di recuperare anche perché domani andiamo a Busan le lenti perché veramente non ce la facevo più volevo solo chiedere gli occhi e dormire e adesso stiamo per uscire per andare a cercare un posto per cenare e poi penso che faremo un girettino a Myondong visto che comunque il quartiere è dove siamo questo è il locale la Corea non è che sia il posto più pulito del mondo almeno per quanto riguarda la spazzatura e appunto trovate questo cartello e poi dovete andare in questo vicolino ed è subito a sinistra Grazie a tutti Grazie a tutti